Inaugurate nella palazzina delle esposizioni Ex-Stack a Catanzaro, la mostra Food, Culture e Foodways, tradizioni e culture dal mondo, promossa da Blue Ocean. All'interno le opere di Penny de los Santos, nel corso della manifestazione anche una conversazione fotografica e una degustazione di prodotti enogastronomici calabresi. L'appuntamento di oggi chiude il circuito Calabria di Food, Culture e Foodways, una mostra ideata e prodotta da Blue Ocean con la partnership di National Geographic, con le opere di Penny de los Santos, che è considerata una delle autrici più importanti al mondo e anche una specialista nel raccontare la cultura forse più intima di ogni popolo che quella legata al cibo. L'appuntamento di Catanzaro qui a Piazza Matteotti all'Ex-Stack, che è visitabile gratuitamente ogni pomeriggio fino al 31 marzo, conclude il circuito Calabria per poi insomma aprirci agli appuntamenti in altre regioni, proseguiremo su Cagliari, Genova, Napoli, Catania, un viaggio nel viaggio che interesserà tante altre realtà.